Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere come importare ogni tipologia di dato grazie a VP o l'import. Ho deciso di fare questo video per dimostrare, grazie a questo plugin che vedremo in versione premium, quindi a pagamento, come è possibile importare ogni tipologia di dato all'interno di WordPress, quindi partendo da quelli che possono essere file Excel oppure file CSV, con varie tipologie di dati, compresi anche la possibilità di andare a creare non solo post classici, quindi articoli, ma anche custom post, anche con custom fill. Comunque non preoccuparti, andremo a vedere tra poco la guida, troverai poi il link comunque del plugin in questione qua sotto in descrizione, con tutta la sua documentazione e tutte le informazioni. Direi di non perdere quindi adesso altro tempo e andare a vedere la guida. Bene, partiamo da un file Excel che abbiamo proprietariamente per esempio, andiamo su quella che è la dashboard, quindi il back end del nostro WordPress, andiamo sui plugin, qua abbiamo la versione di WP o l'import appunto in versione premium e abbiamo appunto, andiamo immediatamente ad attivarla. La versione gratuita ha ovviamente funzionalità limitate. Una volta attivato, vediamo subito quella che è l'importazione, qui abbiamo la pagina dove diciamo eseguire quelle che sono le importazioni, qui abbiamo altre, tutta la lista diciamo delle importazioni eseguite, qui abbiamo un esempio di quelle che avevamo già fatto, qui abbiamo un po' di configurazioni per quanto riguarda le importazioni, ma non solo, abbiamo poi anche la possibilità di accedere diciamo a parte di queste impostazioni durante proprio la singola importazione. Andiamo un attimino a cancellare questa precedente importazione che avevamo fatto, ok, partiamo da vuoto, quindi carichiamo un file, questo è davvero, è un file preferente di esempio, è un file con, come potete vedere, con quelle che sono le scuole, quindi abbiamo un ID, un tipo, un nome, abbiamo diverse colonne, e comunque all'interno di questo file è un file Excel. Qua possiamo scegliere, ed era quello che dicevo nell'anteprima, possiamo scegliere se addirittura creare dei nuovi elementi o utilizzare degli elementi già esistenti. In questo caso abbiamo la possibilità appunto di scegliere tra articoli, pagine, tassonomie, commenti, oppure addirittura qualora noi creassimo dei custom post e ho fatto dei video su come creare custom post all'interno di WordPress lato codice, quindi possiamo creare, per esempio, potremmo creare il custom post scuole, ora in questo caso non lo facciamo per praticità, scegliamo quindi di importare gli articoli. Andiamo allo step 2, quindi alla parte successiva, qui davvero stiamo facendo proprio un esempio. In questo step abbiamo di fatto una panoramica di quelle che sono le, diciamo, quelli che vengono definiti nodi, cioè ogni colonna, diciamo, da che cosa è costituita, ogni riga da che cosa è costituita, quindi ogni riga è costituita da tutte le colonne che abbiamo visto in precedenza, quindi l'ID dell'istituto, il tipo di istituto, il nome di istituto, la via, l'indirizzo, eccetera. Andiamo quindi avanti allo step successivo, volendo qui possiamo, direi, andare a spostare quelli che sono, per esempio, i nodi o intervenire all'interno di un singolo nodo, qualora ne avessimo bisogno di soltanto uno o due, lì possiamo andare magari a selezionare, altrimenti lasciamo la parte completa. Andiamo avanti allo step 3, nella parte, diciamo, più pratica. Qui noi abbiamo il post, quindi quello che è l'articolo di fatto. In questo caso stiamo parlando, appunto, di articoli semplici, per cui avremo titolo, abbiamo il testo, abbiamo quello che è l'exert, e quindi l'occhiello, e abbiamo anche tutti i vari campi che abbiamo, diciamo, aggiuntivi, quindi possono essere quelli che possono essere le immagini, se ci sono dei custom field, se no possiamo qua creare noi dei custom field, quindi dei campi aggiuntivi, tassonomie o categorie o tag, e altre informazioni. Quindi, a questo punto, noi fondamentalmente dobbiamo andarci a costruire quello che è il template, diciamo, dell'importazione. Quindi, cosa vuol dire? Facciamo un esempio, facciamo finta che vogliamo come titolo il nome, tipo, il tipo di, il nome dell'istituto, quindi per suddividere, dobbiamo andare fondamentalmente a prendere quello che è il nome, abbiamo un po' di, diciamo, di problemini con il drag and drop, per questo, per quanto riguarda questo plug-in, ecco, andiamo a prendere quella che è per lui la sintassi, diciamo, del, 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 dell'istituto, cioè del, del, diciamo, del campo del nodo, e sul quale andremo a importare. Andiamo, per esempio, a costruirci il titolo, magari facendo i di istituto, e nome istituto, per esempio. Quindi, vediamo se funziona con i di istituto, trattino nome istituto, e nel contenuto, per esempio, possiamo metterli di istituto e quello che è magari anche il tipo di istituto, d'accordo? Potremmo poi magari scegliere anche altri campi. Potremmo mettere l'exerpt, potremmo mettere, per esempio, la, che so io, la categoria, per esempio, ogni articolo potrebbe avere come categoria, magari quella che è la, che ne so, la provincia. Possiamo provare, facciamo delle prove. Ok. Per esempio, la categoria ha una categoria che si chiama, appunto, che è la provincia, di fatto. A questo punto, noi cosa facciamo? Possiamo procedere con quella che è l'importazione, per esempio, come è proprio questo caso, questo esempio, qui stiamo importando le scuole di una determinata provincia. Dovessimo effettuare altre importazioni, per esempio, di altre province, noi possiamo andare semplicemente, questo, diciamo, template, chiamiamolo così, che abbiamo costruito, andarselo a salvare come template, e quindi mettiamo, per esempio, template scuole, template scuole, per esempio, e lo andiamo a salvare come template. Quindi, le volte prossime, quello che dovremmo fare è caricare l'Excel, quando arriviamo a questo step, quindi allo step 3, andremo a caricare quello che è il template, questo qua, template scuole, e faremo altro che andare a caricare il nuovo Excel. Andiamo avanti a questo punto allo step 4, quindi procediamo a quello che è allo step 4, qui abbiamo ulteriormente altre nuove impostazioni, adesso non andiamo proprio nel dettaglio, abbiamo appunto la possibilità di creare appunto nuovi articoli, o di fare anche l'aggiornamento, quindi qualora avessimo, diciamo, qualche articolo, qualche scuola che è doppia, andiamo a, diciamo, ad aggiornarla, e a non, per esempio, a non creare un doppione. Quindi abbiamo un po' di varie impostazioni. Qua abbiamo un po' di impostazioni, invece, riguardante anche le configurazioni avanzate, quindi, per esempio, le iterazioni, quindi ogni 20 records, diciamo, abbiamo una, diciamo, una pausa, in modo da non andare a appesantire troppo quello che è il processo di iterazione, e abbiamo anche la possibilità di splittare, quindi suddividere l'importazione in, fino a 1000 record, e abbiamo altre impostazioni ancora, appunto, sono avanzate, non entriamo nel dettaglio. Queste sono importazioni, sono impostazioni avanzate, qualora tu dovresti importare, per esempio, grossi numeri, quindi, magari stiamo parlando di 10.000, 20.000 record, e hai bisogno, quindi, di accedere a quella che è tutta la funzionalità avanzata, che in questo momento abbiamo tralasciato, perché voglio farti vedere come funziona questo plugin. Procediamo, quindi, al passaggio successivo. Abbiamo, appunto, qua ci chiede di utilizzare un ID, ok, un ID, appunto, unico per procedere con l'importazione, qua possiamo anche sceglierlo noi, utilizzando quello che è, per esempio, soltanto l'ID istituto, per identificare i record, e a questo punto procediamo. Comunque vedete che, se c'è qualcosa che non funziona, viene subito, diciamo, bloccata l'importazione. Qui abbiamo quello che sarà, diciamo, l'importazione, verranno importati 71 record, quindi 71 scuole, l'ID univoco è l'ID istituto, e qua abbiamo le impostazioni di esecuzione. A questo punto possiamo dare l'importazione, confermare e dare l'ok all'importazione, qui abbiamo la percentuale, come potete vedere, tra l'altro ora sono 70 record, sono davvero pochi, qui abbiamo il log, quindi eventualmente possiamo andare a vedere cosa è successo e cosa non è successo. In ogni caso, ci spostiamo in quelli che sono gli articoli, come possiamo vedere, abbiamo l'ID di ogni singola scuola, trattino il nome, e andiamo a vedere come, all'interno delle categorie, abbiamo quindi quella che è la provincia, e andiamo all'interno dell'articolo, a vedere se anche il testo è stato importato, ok, anche l'ID e il nome e la tipologia dell'istituto sono stati importati. Inoltre, come abbiamo visto, abbiamo anche importato appunto quelle che sono le categorie, quindi abbiamo tutte quante le categorie, noi per praticità avevamo trasformato in questo Excel, le province in appunto nei codici di avviamento postale, e quindi sono state create categorie con appunto quello che è il codice di avviamento postale. Infatti abbiamo per ogni CAP i vari, appunto, le varie scuole. Bene, questa è una panoramica di come può funzionare appunto WP o l'import, come ho detto abbiamo configurazioni anche piuttosto avanzate, abbiamo la possibilità anche di utilizzare del codice, quindi possiamo scegliere diciamo di andare a eseguire proprio del codice PHP durante l'importazione, queste sono naturalmente tutte impostazioni avanzate. Ora volevo farti vedere qua e tra l'altro abbiamo l'importazione che abbiamo effettuato come avevamo visto all'inizio del video, qui possiamo rilanciare quindi eventualmente l'importazione perché se volessimo aggiornare per esempio dei dati possiamo andare a rilanciare l'importazione oppure possiamo andare anche a vedere quelli che appunto sono i settaggi, quindi possiamo anche tornare a quelli che sono i settaggi. Ora abbiamo anche salvato il template, ora qui io carico il file, lo carico, carico di nuovo lo stesso file ma per praticità volevo solo farti vedere come abbiamo la possibilità qui abbiamo i nodi, dovremo, vedete qua abbiamo il template vuoto, vediamo se è stato salvato il template, abbiamo TPL scuole, caricato il template, ecco qua, abbiamo tutti i dati che abbiamo creato. D'accordo? Quindi per quanto riguarda appunto WP All Import direi che abbiamo visto quelle che sono le funzionalità principali nella versione appunto Premium ricordo che nella versione ancora gratuita abbiamo diciamo delle limitazioni. Per quanto riguarda WP All Import per oggi è tutto. Bene, mi auguro che ti abbia trovato utile questo video, se comunque hai dubbi o domande lasciamelo scritto qua sotto nei commenti, se invece ti piacerebbe approfondire qualche argomento o qualche parte del video che è stata trattata scrivimelo anche questo nei commenti e se questo video ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!